salve amiche e amici visto che ho letto alcuni commenti a riguardo e anche alcune domande che sono venute fuori durante l'ultima live nel video di oggi proverò a fare un poco di luce sul funzionamento delle contromisure antimissile e delle evasioni è un argomento complesso e per parlare di evasioni e contromisure sarà necessario fare anche qualche accenno al funzionamento del radar cercherò ovviamente di parlare in modo semplice il mio obiettivo è sempre quello di rendere questi argomenti accessibili a tutti come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace qui sotto il video troverete tutte le funzioni di youtube per sostenermi a portare avanti questo progetto come per esempio donazioni e abbonamenti al costo di un caffè al mese quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo la prima cosa che un pilota studia prima di parlare di evasioni e contromisure è la classificazione dei missili stessi perché essendocene là fuori di diversi tipi e tecnologie le contromisure e le evasioni saranno di conseguenza molto diversi in linea generale i missili si classificano in tre categorie missili attivi semiattivi passivi o termici il 99,9 per cento dei missili che ci sono in circolazione sono composti in questo modo un tubo diviso in diverse sezioni che contiene il motore il propellente solido la batteria e l'elettronica che permette il sistema di guida l'esplosivo che può esplodere ad anello o a diffusione verso avanti il radar o le antenne riceventi per essere guidato fino al bersaglio più ovviamente c'è una spoletta di prossimità e poi vabbè ci sono le ali all'esterno bene se qualcuno di voi ha esperienza con i cosiddetti fischioni di capodanno quando ho detto propellente solido gli sarà accesa una lampadina perché esatto questi missili almeno la stragrande maggioranza di questi utilizzano il cosiddetto propellente solido che è una specie di pasta che si accende ed eroga immediatamente tutta la potenza al motore spingendo il missile alla sua massima velocità dopodiché questa finisce e il missile inizia a planare con la sua velocità residua in modo balistico fino al bersaglio l'unica eccezione a questa tecnologia è rappresentata dal missile meteor europeo utilizzato dai nostri euro fighter che oltre ad avere il cosiddetto propellente solido dispone anche di un motore a reazione per cui può combinare queste due soluzioni per viaggiare molto più a lungo e più lontano rispetto all'accensione tutto e subito del sistema tradizionale ora ho speso questo minuto per descrivere grossonalmente come sono fatti i missili solo per sottolineare l'aspetto più importante della questione cioè che quasi tutti i missili bruciano il loro carburante in pochi secondi dopo il lancio ed esaurito questo poi viaggiano planando fino al bersaglio questo sarà molto importante da ricordare più avanti quando parleremo appunto di evasioni altra premessa che bisogna fare oggi riguarda il funzionamento del radar e delle emissioni termiche perché sono la chiave di lettura per le evasioni e l'utilizzo delle contromisure allora per quanto riguarda il radar si parla di microonde è un argomento molto molto complesso che ce ne sarebbe da parlare per ore ha una sua storia di sviluppo molto lunga addirittura il primo antenato del radar fu pensato negli anni venti dal premio nober per la fisica a guglielmo marconi che con un sistema di radio rilevamento di sua invenzione riuscì a individuare un veicolo comunque il primo vero sistema radar fu realizzato nel 1935 da sir robert watson watt al quale era stato dato l'incarico di mettere a punto un sistema di localizzazione degli aerei nemici questo sistema radar venne subito adottato dalla difesa antiaerea britannica che già nel 1940 riusciva a rilevare in anticipo le grosse formazioni della lutwaffe sulla manica durante la battaglia d'inghilterra tra l'altro un fatto curioso e inaspettato fra le altre cose è che nel 1945 l'effetto riscaldante di queste onde elettromagnetiche di microonde ad alta potenza fu scoperto accidentalmente da percy spencer un ingegnere autodidatta americano notò infatti che le microonde del radar che stava studiando iniziarono a sciogliere una barretta di cioccolato che aveva in tasca cioè il primo cibo deliberatamente cucinato con il forno a microonde di spencer fu il popcorn poco più avanti il secondo fu un uovo che esplose in faccia a uno degli sperimentatori quindi ecco ricordatevelo perché praticamente in ogni casa italiana oggi c'è un piccolo trasmettitore di microonde radar chiuso in un fornetto né più né meno ora per quello che serve oggi a noi per parlare di contromisure ed evasioni dobbiamo immaginare il radar abiotrasportato così come quello di una postazione missilistica come una specie di trasmettitore che lancia onde elettromagnetiche in avanti queste colpiscono un oggetto o un aereo di cui parleremo e poi tornano indietro e questi questi echi letteralmente vengono captati dall'antenna ricevente del sistema queste grosse antenne che vediamo girare o che sono nel muso degli aeroplani quindi conoscendo il valore della velocità a cui si muove l'impulso delle onde elettromagnetiche e il tempo che ci mette il segnale per fare avanti e indietro il calcolatore associato può così determinare la distanza dell'oggetto rispetto all'emettitore in base poi all'elevazione dell'antenna stessa si può determinare la posizione in altezza e poi con una semplice triangolazione rispetto al nord lo stesso calcolatore può determinare la posizione nello spazio dell'oggetto stesso quindi determina distanza quota e posizione più o meno questo è il principio di funzionamento non è molto diverso dall'eco localizzazione che si fa con un eco semplicemente da punto di vista sonoro ma quando si parla di radio scusate di radar avio trasportati si parla comunque di radar doppler che significa questi radar sono specializzati per rilevare tutti quegli oggetti veloci che vengono incontro all'emettitore cioè che hanno una velocità molto più alta rispetto a tutto il resto dello scenario cioè se noi stiamo viaggiando alla velocità come questo disegno alla velocità v2 e mettiamo il nostro treno di onde elettromagnetiche verso un oggetto che ci viene incontro alla velocità v1 il calcolatore deve considerare che c'è un oggetto che viaggia alla nostra velocità più la velocità dell'oggetto che ci viene incontro ok quindi non per esempio l'albero avrà la stessa velocità v2 cioè la nostra velocità a cui ci stiamo avvicinando ok quindi il radar doppler cosa fanno captano le onde di ritorno di questi oggetti che ci vengono intorno è chiaro che questo è un discorso molto importante per i radar aviotrasportati cioè per un caccia il pericolo maggiore non viene dagli aerei che si allontanano ma viene dagli aerei che si avvicinano che possono lanciargli un missile il principio di funzionamento di questo radar doppler in realtà è qualcosa che noi conosciamo e sperimentiamo nella vita di tutti i giorni per fare un esempio se avete mai sentito passare nelle vicinanze un'ambulanza avete certamente notato quando questa si avvicina verso di noi il suono della sirena è molto alto acuto mentre quando vi passa oltre cambia diventa più greve più attenuato e basso questo perché appunto se vediamo in lavagna il suono che viene verso di noi dalla da un oggetto in movimento viene verso di noi viene compresso perché il suono non è altro che una frequenza allo stesso modo se noi inviamo un treno di frequenze verso un oggetto che ci viene incontro molto velocemente il suo eco di ritorno avrà un picco molto più alto cioè le sue onde saranno più compresse rispetto al treno che gli abbiamo inviato quindi queste altre frequenze vengono interpretate dal nostro calcolatore dall'antenna ricevente dal calcolatore come un oggetto veloce in base all'ampiezza di queste onde il calcolatore può determinare la velocità di questo oggetto questo l'effetto doppler viceversa un oggetto allontanamento tenderà ad abbassare le frequenze rispetto al treno che abbiamo che abbiamo inviato sarà una frequenza molto più bassa quindi questo avviene perché l'ambulanza avvicinandosi a noi a sirene spiegate aumenta l'ampiezza del picco di frequenze viceversa se quando si allontana le distende ok quindi la stessa cosa avviene con il radar quindi se fin qui è tutto chiaro possiamo dire che il radar avio trasportato è specializzato per individuare le alte frequenze e applica allo stesso tempo dei filtri per escludere tutto il resto perché non gli interessa c'è un pilota da combattimento non interessano tutti gli altri aerei che non sono pericolosi gli interessano gli aerei che gli vengono incontro e di conseguenza il filtro che il calcolatore applica esclude tutti gli altri oggetti che non appartengono a queste categorie quindi come alberi palazzi o altri oggetti anche in volo che non hanno queste caratteristiche di volo che gli vengono incontro paradossalmente un elicottero fermo in volo stazionario per un radar di questo tipo appare esattamente come un albero è fermo rispetto allo scenario alla nostra stessa velocità di avvicinamento quindi non viene visualizzato per poterlo visualizzare il radar dove a cambiare il range di frequenze utilizzate andando a passare per esempio alle frequenze medie o basse in questo modo potrà distinguere un oggetto in volo stazionario quindi in termini militari l'aspetto è considerato molto rilevante degli oggetti che cosa significa abbiamo tre diciture fondamentalmente nella terminologia militare quando un oggetto è definito hot che significa caldo ci mostra il muso cioè vuol dire che ci viene incontro avrà delle frequenze alte quando un oggetto è cold che significa freddo sarà sulle basse frequenze ci mostrerà la coda quando l'oggetto è definito flanking succede qualcosa di molto interessante allora se nel disegno che stiamo vedendo vediamo una piantina vista dall'alto dove questo aereo ci viene incontro quindi avrà una velocità di v1 più v2 quindi un oggetto molto veloce con frequenze molto alte se invece questo aereo non ci viene incontro scusate ma fa un volo perpendicolare rispetto a noi cosa succede che semplicemente come vedete rispetto alla nostra velocità di avvicinamento lui è come se fosse fermo cioè non si avvicina rispetto a noi non ha una velocità supplementare alla nostra ok quindi muovendosi perpendicolarmente rispetto a noi questo aereo viene filtrato dal sistema e quindi non viene visualizzato dal sistema ok questo oggetto per la dicitura che ho menzionato poco fa viene definito flanking cioè fiancheggiante letteralmente non a caso e cunea curiosità degli anni 80 il nominativo nato per l'aereo russo su 27 fu proprio flanker che significa proprio colui che costeggia colui che fiancheggia letteralmente questo perché negli anni 80 non essendoci ancora dati e fotografie su questo aeroplano le osservazioni sui radar di ricerca e degli aerei che facevano le scansioni notarono che questi eri russi avevano l'atteggiamento di fiancheggiare continuamente il confine restando appunto paralleli ad esso da qui appunto il nomignolo su 27 flanker ora questa anticipazione sul funzionamento del radar ci servirà molto più avanti quando parleremo della guida dei missili e contro misure elettroniche come le chaff quindi andiamo avanti però ricordiamoci questo aspetto cioè la cosa importante da capire è che i radar abiotrasportati sono radar da attacco soprattutto nei cacciabombardieri sono specializzati nell'individuare gli aerei che vengono incontro che sono hot che sono caldi mentre aerei con questo aspetto flanking potrebbero essere ignorati dal sistema ok quindi andiamo avanti e rientriamo nella descrizione dei missili eravamo partiti appunto su come è fatto un missile col propellente solido eccetera eccetera arriviamo alla classificazione partiamo dalla prima categoria i missili attivi cosa significa in genere si intendono con questa dicitura tutti quei missili che hanno un loro piccolo radar al loro interno che è capace di inseguire il bersaglio autonomamente fino all'impatto il radarino di questi missili funziona per gli stessi principi che ho appena descritto è un piccolo radarino doppler secondo il senso comune questi missili vengono chiamati anche lancia e dimentica cioè una volta lanciati il pilota può andarsene e sarà poi il missile a fare tutto il lavoro per lui fino all'impatto con il bersaglio in realtà non è proprio così cioè un po sbagliata come affermazione non è sempre così quasi mai a dire il vero in questa categoria di missili il più famoso è certamente l'americano am 120 amra in dotazione sui loro caccia più famosi come le f16 le f15 le f18 le f22 e le f35 è un missile che nel corso degli anni ha subito vari upgrade e migliorie a una gittata di circa 80 chilometri anche di più dipende dalle circostanze e dopo il lancio è caratterizzato da una parabola ascendente detta loft in cui appunto il missile cerca di salire in quota per ottimizzare la propria gittata e viaggiare anche in area più rarefatta che offre meno resistenza e permette al missile di restare più veloce e più a lungo possibile se prendiamo l'esempio di un lancio di questo missile alla sua gittata massima di 45 50 miglia di 80 chilometri che ho detto prima cosa accadrà quindi una volta lanciato il missile salirà in quota e verrà guidato dall'aereo lanciatore attraverso un sofisticato sistema di condivisione dei dati che viene definito data link anche se non è lo stesso data link di cui si parla negli aerei nato questa funzione permette a quasi tutti i caccia americani ed europei di lanciare questo missile in modalità silenziosa cioè con il cosiddetto soft lock cioè non si fa un vero e proprio aggancio radar su bersaglio viene semplicemente designato marcato sul display e questa marcatura viene trasmessa al missile e il missile basa la propria navigazione la propria traiettoria sulla navigazione inerziale dell'aereo lanciatore quindi questi dati della posizione del bersaglio vengono comunicati al missile e il missile si dirige in quella direzione restando praticamente spento ok insomma il pilota che riceve questo lancio il pilota nemico chiamiamolo così non può sapere che c'è stato un aggancio su di lui perché è un aggancio molto leggero non è a tutta intensità del radar dell'aereo lanciatore quindi la in 120 questo missile può essere lanciato in questa modalità in modo silenzioso il cosiddetto tvs tvs acronimo che indica questa capacità cioè di tracciare un bersaglio mentre si continua a fare scansioni il missile quindi all'inizio accenderà il suo motore salirà in quota esprimerà la sua velocità massima nel caso di un 120 si parla di circa 4.900 km orari circa mac 4 e per buona parte del suo viaggio circa l'ottanta per cento del suo tragitto verrà guidato dall'aereo lanciatore che continuerà a fornirgli i dati del bersaglio aggiornandolo continuamente specialmente perché il bersaglio nel frattempo potrebbe muoversi cambiare traiettoria eccetera quindi il missile farà le sue dovute correzioni calcolando continuamente il punto di impatto nel futuro in anticipo ovviamente rispetto alla traiettoria del bersaglio raggiunta la fase terminale del suo percorso quindi dopo aver percorso circa l'ottanta per cento del suo tragitto il missile cosa fa si attiva e accende il suo piccolo radarino che a quel punto scansiona davanti a sé e cerca l'aeroplano che deve trovare in quella posizione e a quel punto il missile aggancia l'aeroplano e diventa completamente autonomo a quel punto l'aereo che ha lanciato il missile può andarsene quindi diventa effettivamente vero che è un lancio e dimentica ma solo nel tratto terminale appunto poi il pilota che ha lanciato il missile può decidere se continuare a supportare il missile con ulteriori aggiornamenti e informazioni o andarsene di conseguenza questo è un enorme vantaggio di questi missili americani quindi nel momento in cui la in 120 attiva il suo radar diventa completamente autonomo e questo piccolo radarino si aggancia sul bersaglio con maggiore intensità rispetto al tracciamento leggero che ho descritto prima di conseguenza il pilota che riceve questo lancio attraverso un sistema di antenne poste intorno all'aeroplano capta questi segnali radar più intensi e vengono interpretati dal sistema come il lancio di un missile letteralmente suonano gli allarmi e il sistema dice al pilota guarda che hai un missile che ti sta arrivando addosso quindi la letalità della in 120 è proprio questa cioè che nella maggior parte del suo tragitto è silenzioso e fa scattare l'allarme quando ormai è vicino e nel tratto finale di conseguenza se il bersaglio è ignaro della minaccia non sa che c'è stato questo lancio e fino a quel momento non ha fatto assolutamente niente per prevenire o anticipare l'evasione di questo missile quando sentirà suonare l'allarme sarà troppo tardi sarà circa cinque secondi dall'impatto in cinque secondi non fai niente quindi è più che fare qualche manovra della speranza e pregare sarà molto difficile che possa evadere questo missile quindi lo scenario che ho appena descritto di fatto potrebbe essere l'incubo di tutti i piloti russi contro gli f-16 in arrivo in ucraina ora sicuramente avrete sentito parlare del sistema antiaerei nasems che utilizza gli am 120 fra l'altro diventati famosi alla ribalta nei telegiornali degli ultimi giorni quando si è parlato dell'ospedale pediatrico questi lanciatori possono supportare questi missili di cui ho parlato gli am 120 tuttavia questo missile è pensato per essere lanciato da un aereo inizialmente che viaggia l'aereo più di mac 1 quindi no è un po' come immaginate il lancio del giavellotto non si fa da fermi cioè si prende la rincorsa quindi più prendi la rincorsa più lontano va il giavellotto far partire un giavellotto da fermo fa neanche la metà della strada che deve fare è un po questo il principio quindi far partire da terra un am 120 che è un piccolo missile per carità non è pensato per distruggere un missile o un aeroplano far partire da terra un 120 significa che non andrà oltre i 40 chilometri di raggio anche meno molto probabilmente e resterà molto lento perché accendendosi in aria molto densa spreca tutta la sua energia iniziale tutto il suo propellente iniziale proprio per muoversi in aria molto densa nonostante questo comunque resta un missile autonomo dotato di una guida propria e il suo radar è più pericoloso sicuramente di altri missili guidati poi ovviamente ci sono tante variabili che possono cambiare queste circostanze che ho descritto per esempio i lanci a bassa quota che ho accennato riducono tantissimo le capacità di tutti i missili aria aria a terra aria cioè più l'oggetto vola a bassa quota che devi colpire più è difficile colpirlo un po questo il principio un po perché per i missili muoversi a livello del suolo un po come nuotare in acqua cioè ti fermi è proprio molto resistente l'aria quindi anche quando parleremo di evasioni ricordiamo che volare a bassa quota e prendere le evasioni molto molto più facili in generale comunque nella categoria dei missili attivi non c'è solo la m120 c'è per esempio l'SD-10 o PL-12 cinese che fondamentalmente è un po' una copia della m120 né più né meno somiglia molto alla m120B forse a qualcosina di più in termini di raggio ma è meno efficiente per esempio della m120C e poi c'è l'R-77 russo che è il primo tentativo della federazione russa di equipaggiare i suoi aerei con un missile attivo lancia e dimentica per intenderci almeno la prima versione di questo missile era un missile praticamente a corto raggio parliamo di 20 25 chilometri di raggio poi però è stata estesa nelle versioni più recenti però non è un missile sofisticato come la m120 e nel momento del lancio fa suonare praticamente gli allarmi sugli rvr occidentali quindi non è un missile silenzioso quindi il missile attivo per eccellenza oggi il vero top di gamma considerato in assoluto come il miglior missile al mondo almeno attualmente è sicuramente il meteor europeo questo oggetto come ho anticipato combina due motori per cui il pilota per esempio può decidere se lanciarlo a bassa velocità inizialmente per mettergli così una grandissima autonomia e raggio e poi può decidere se accendere il suo motore più potente nel tratto finale quando sarà ormai impossibile da evadere questa tecnologia molto sofisticata e combinata con i datalink il fatto di essere agganciato in softlock lo rende estremamente pericolosissimo da un punto di vista operativo non penso che esista niente del genere in circolazione e sicuramente sarà un bell'incubo per i piloti russi semmai dovranno confrontarsi con questo missile molto di più del 120 insomma bene detto questo poi andiamo avanti abbiamo trattato i missili attivi vale fra l'altro alcuni missili attivi sono presenti anche nei sistemi antiaerei quindi comunque il principio è questo hanno un radarino interno un sistema di guida interno comunque oltre a questo ci sono anche i missili chiamati semi attivi come funziona la logica di questi missili è che per colpire il loro bersaglio devono essere guidati esattamente come un drone né più nemmeno con un sistema a radio in genere cioè vanno guidati fino al punto di impatto proprio così nel caso di questi missili è il radar della piattaforma che li lancia a guidarli nel caso di aerei almeno se parliamo poi della grande maggioranza dei sistemi missilistici radar la piattaforma di lancio può avere per esempio più sistemi di rilevamento che combinano capacità radar televisivi o infrarossi e quindi possono combinarsi per aiutare il missile nella sua guida mentre gli aerei per motivi di spazio e peso no in genere utilizzano solo un radar o al massimo un sistema elettroottico con un telemetro laser ma parte questo oggi in questo momento stiamo parlando di missili semi attivi quindi ci concentriamo sull'aspetto radaristico i missili semi attivi più famosi sono certamente la m7 sparrow che è entrato in servizio negli anni 50 ed è stato poi continuamente aggiornato e viene utilizzato ancora oggi in america da aerei come l'f-18 e l'f-15 in russia c'è l'r 27 r e r che è la versione extended che è praticamente il missile più diffuso nell'arsenale russo così come per esempio esistono anche in francia in matra super r 5 30 utilizzare dei missili semi attivi che non sono lancia e dimentica cioè se il missile non viene più guidato il missile perde la sua guida è precipita diventa completamente inattivo comunque utilizzare questi missili semi attivi a dei vantaggi intanto sono missili molto precisi cioè nella situazione in cui c'è immaginiamo una rissa fra due aerei e uno di questi è un nostro compagno lanciare un missile semi attivo sul nemico rende impossibile sbagliare il colpo perché se si lancia un missile semi attivo si potrebbe colpire accidentalmente il proprio compagno cosa che per esempio può succedere tranquillamente con il lancio di un 120 in una mischia o un missile termico in una mischia quindi la m7 è un missile di assoluta precisione vuol dire che agganci un certo bersaglio e guiderai il tuo missile su quel bersaglio specifico non altri i missili semi attivi poi hanno anche il grande ruolo di deterrente tra virgolette in tempo di pace diciamo così cioè possono essere lanciati e mettere in allarme il nemico costringendolo a fare delle manovre evasive o andarsene disingaggiarsi quindi a quel punto possono essere spenti come una sorta di avviso ehi non venire più avanti non andare oltre ti ho lanciato questo missile solo per spaventarti più o meno questa è la logica del missile usato come deterrente quindi sono usati come una sorta di spauracchio per spaventare e possono essere poi disingaggiati a metà del loro tragitto e diventare inerti insomma sono missili che possono essere utilizzati nel ruolo di polizia aerea come una sorta di colpo sparato per aria per avvisare per quanto riguarda i missili semiattivi terra aria la lista è molto lunga la maggior parte dei sistemi missilistici antiaerei che utilizzano sistema radar utilizza proprio dei missili semiattivi perché in questo modo la piattaforma può utilizzare i propri sistemi più grossi e più potenti di tracciamento ricerca per guidare il missile ok lo svantaggio però di questa tecnologia è che il lancio di questi implica che tutta la potenza del radar del lanciatore si concentri sul bersaglio per tutto il tempo necessario affinché il missile lo raggiunga insomma è una cosa non da poco non è che lanci il missile te ne vai devi guidarlo proprio fino al punto di impatto e devi andare anche tu stesso verso il bersaglio quindi non è che puoi girarti in sostanza fra l'altro proprio per questo meccanismo in cui tu concentri tutto il fascio del tuo radar per agganciare il bersaglio guidare il tuo missile chi riceve il lancio se ne accorge sente l'intensità del radar su di lui e quindi mettendosi in allarme questo può adottare tutte le sue strategie difensive e usare le sue contromisure fin da subito fin dall'inizio del lancio e fra poco vedremo con che effetti bene questi sono i missili semiattivi per concludere la descrizione delle tipologie di missili andiamo a parlare dei missili a guida infrarossa ora dire che questi missili si agganciano sulle fonti di calore non è proprio preciso in realtà nella loro piccola telecamerina non c'è una telecamera c'è un oscillatore di frequenza che si sintonizza sulla lunghezza d'onda emessa dal bersaglio lunghezza d'onda si parla sempre di luce quindi calore è una fonte di luce lo chiamiamo infrarossi però genera una frequenza l'oscillatore del missile si sintonizza su quella frequenza e si dirige su di questa questa lunghezza d'onda viene generata dalle parti calde come i motori che il missile può vedere attraverso l'osservazione appunto da dietro dell'aeroplano quindi si tratta di un lancio quando l'aereo è in fuga oppure può vedere il calore generato dai motori nella parte frontale attraverso le prese d'aria frontali se parliamo almeno di missili aria a guida infrarossa le emissioni di calore poi non sono così percettibili tanto quanto l'eco di ritorno di un radar il radar ha una capacità infinita diciamo è limitata solo dalla curvatura terrestre e dalla intensità del segnale mentre per quanto riguarda l'emissione infrarossa ha una portata più limitata per i sensori che la catturano quindi in genere quando si parla di missili a guida infrarossa salvo alcuni casi particolari si tratta di missili a corto o cortissimo raggio insomma i missili da dogfight per dirla in modo hollywoodiano per quanto riguarda quindi tutti i sistemi antiaerei che hanno dei sensori a guida infrarossa la maggior parte cosa fa traccia il bersaglio con delle ottiche termiche e poi lancia un missile che in genere viene guidato televisivamente o via radio ma non solo ci sono anche alcuni casi come ciaparra al strela che utilizzano un po l'analogo dei nasems che ho citato prima cioè lanciano dei missili pensati inizialmente per essere aria e adattati come missili terra aria che anche loro questi missili hanno la loro guida infrarossa a corto raggio insomma i missili a guida infrarossa più famosi sono sicuramente gli aim 9 sidewinder che dagli anni 80 nelle versioni più recenti sono diventati all aspect cioè sono in grado di acquisire i bersagli anche guardando attraverso prese d'aria frontali e questo ha permesso di poterli lanciare anche frontalmente verso aerei che ci vengono incontro nella sua ultima versione l'aim 9x è un missile estremamente manovrabile dotato dei cosiddetti rcs cioè sono dei piccoli ugelli di manovra mentre per esempio il vecchio ai 9 non li aveva era famoso invece per utilizzare delle p queste piccole rotelle giroscopiche alla fine delle ali chiamate rolleroni un altro missile molto valido in questa categoria è il russo r73 che come line 9x può fare virate sorprendenti anche di 180 gradi volendo lo stesso vale per il python israeliano anche questo dalla manovrabilità sorprendente si presenta in tutti gli effetti come una sorta di remix fra r73 e in nove cogliendo il meglio di entrambi i mondi poi ce ne sono altri come il matra 550 magic francese o l'iris t europeo sono tutti i missili che hanno questa filosofia sono messi di infrarossi a corto raggio l'unica eccezione a questa regola del corto raggio e lr 27 et russo quello che praticamente è lo stesso corpo del missile del semiattivo radar viene modificato con una testina a guida infrarossa e quindi questo oggetto può arrivare un po più lontano avendo un motore molto più potente poche parole l'unico missile a guida infrarossa a medio raggio in questa categoria quindi per riassumere nelle tre categorie si distinguono i missili attivi e semiattivi radar che sono caratterizzati dal fatto che fanno scattare degli allarmi sonori sull'aereo che li riceve e poi i missili passivi o guida infrarossa che non fanno scattare nessun allarme perché si agganciano passivamente sulle emissioni attive di calore dell'aereo ingaggiato in realtà questo poi dipende perché oggi esistono anche dei sistemi di bordo che rilevano il lancio dei missili quindi dei sensori ottici captano le fiamme dei missili quando partono o i fumi però questo insomma è un altro discorso quindi a parte questo avviso comunque il missile a infrarossi è silenzioso possiamo dire così quindi parliamo adesso fatta questa premessa parliamo di evasioni e contromisure le evasioni sono di quattro tipi evasioni energetiche cinetiche di interruzione della loss cioè della linea visiva e poi in tutto questo ci sono le contromisure veniamo vediamo nel dettaglio queste evasioni facendo dei bei disegnini e mostrandovi degli esempi dalle telemetrie per evasioni energetiche si intendono quelle evasioni per cui se vi tirano addosso un sasso alla massima potenza del braccio di chi l'ha tirato a poi basta allontanarvi perché il sasso non vi raggiunga fondamentalmente questo è poi il discorso energetico che significa che ogni missile ha le sue possibilità in base alla quota la velocità a cui è stato lanciato avrà un cosiddetto raggio massimo quindi l'aereo che riceve il lancio basta uscire da questo raggio per evadere energeticamente è detto molto semplicemente quindi ogni missile ha diciamo la sua chiamata dlz diciamo un po un esempio la dlz è praticamente la dynamic launch zone che comprende tutti i parametri di possibilità del missile abbiamo poi la cosiddetta r max che appunto il raggio massimo a cui può raggiungere il missile abbiamo la r minima che è quella distanza al di sotto della quale il missile non può essere lanciato e poi meno della metà in genere questa è considerata la no escape cosa significa questo che se un aereo entra qui e fino a questo punto in questi parametri per evadere energeticamente gli basterà uscire dalla r max per scampare al pericolo cioè lui esce semplicemente dal raggio di efficienza del missile se l'aereo oltrepassa invece questa soglia non gli basterà tornare indietro perché il missile ha la capacità di raggiungerlo quindi se entra all'interno della r non escape zone non basterà un'evasione energetica ora per capire meglio questo questo concetto se vi ricordate all'inizio del video vi ho parlato che la vi ho detto che la stragrande maggioranza dei missili usa un propellente solido cioè bruciano tutto il loro carburante e poi planano per il resto del tempo quindi cosa succede di interessante al momento del lancio se il pilota che ha ricevuto il lancio assume questo cioè che il missile sta usando tutto il suo carburante per accendere per accelerare fino al suo punto di impatto previsto il pilota non dovrà fare altro che pensare a questo cioè considerare che il missile sta in accelerazione su un punto previsto nello spazio del mio aeroplano mi basterà cambiare traiettoria virare per stravolgere completamente i parametri di lancio del missile stesso meglio farlo mentre il missile è in accensione in questo modo lui consumerà tutto il suo carburante virando e questo distruggerà moltissimo la sua aerodinamica quindi il missile perderà tantissimo della sua capacità di raggio quando ormai ha finito la sua accensione resterà con la sua energia residua che sarà molto minore rispetto a quella prevista questa po una sintesi di un'evasione energetica molto efficace il vantaggio di questo tipo di evasioni è che funzionano sempre perché è la fisica vettoriale newtoniana in gioco e quella vale sempre finora almeno non ci siamo inventati altre fisiche sappiamo che questa funziona molto bene nel campo della missilistica e si applica in questo modo quindi in questo caso e vi mostro degli esempi non c'è bisogno di lanciare nessuna contromisura perché bastano le leggi della fisica per evadere un missile sia chiaro questo lo dico perché era emerso anche nel corso della live la cosa peggiore da fare in tutti i casi sempre è andare incontro al missile perché più gli andiamo andremo incontro meno tempo ci impiegherà per raggiungerci più gli favoriremo una traiettoria di anticipo insomma peggiore saranno le situazioni dopo quindi andando incontro al missile abbattiamo ancora di più i tempi di reazione e dopo ci troveremo ormai con missile addosso non si potrà più fare niente quindi per questo motivo per i piccoli aerei oggi è un vantaggio essere piccoli e mo significa che sono molto agili dalla grande accelerazione sono decisamente più avvantaggiati nelle evasioni energetiche di questo tipo evasioni che funzionano sempre perché appunto nel caso di un lancio subito questi aerei semplicemente girano i tacchi e se ne vanno fine missile evaso questo a discapito per esempio i grossi aerei dell'era sovietica come i vari su 27 ma anche uno stesso f15 è sempre un mostro di accelerazione ma stiamo parlando di aerei da 20 tonnellate passa che sono impacciati è abbastanza pericoloso per loro restare nella zona mentre un piccolo caccia come un f16 un euro fighter un rafale un griffen sono tutti aerei mostri di accelerazione che in queste situazioni è un attimo ad applicare un'evasione energetica però ovviamente non è sempre possibile applicare un'evasione energetica specialmente all'accorciarsi delle distanze cioè quando quanto più l'aereo si troverà vicino alla cosiddetta no escape zone tanto più sarà impossibile applicare un'evasione energetica e uscire dai parametri di range del missile che c'è stato lanciato ho fatto l'esempio del sasso ma ovviamente non è un esempio preciso perché il nostro missile a differenza del sasso può manovrare quindi può correggere la sua traiettoria e quindi non è solo una questione di energia di conseguenza se il bersaglio è una distanza tale per cui anche manovrando il missile può raggiungerlo potete stare certi che lo farà in queste situazioni i piloti esperti combinano l'evasione energetica che vale sempre va sempre applicata a quella cinetica cioè cosa fanno giocano sul fatto che il missile per cercare di colpirli deve lavorare sempre in anticipo e missile insomma deve raggiungervi in un punto futuro della vostra traiettoria quindi il pilota esperto cosa fa gioca con questo anticipo per proiettare il punto di impatto del missile nel terreno se il nostro aereo sarà molto molto veloce il missile dovrà anticiparci di tanto nello spazio di chilometri più avanti quindi non basterà fare altro che portare la nostra traiettoria futura verso il terreno con una picchiata per far letteralmente schiantare il missile nel terreno questa è una manovra molto efficace che funziona molto bene su soprattutto se si vola a bassa quota e soprattutto se si lavora molto con l'anticipo cioè quando il missile ha il motore acceso e sta cercando di accelerare il più possibile nel tratto di velocità maggiore che può raggiungere la terza evasione molto efficace che funziona anche questa funziona sempre è quella di interrompere la cosiddetta linea visiva fra il missile e l'aereo che deve colpire o il sistema di difesa che sta guidando il missile cioè se noi riusciamo a interrompere la linea visiva che lega noi al missile o al sistema di guida del missile in automatico il missile perde la guida e deve non può fare più niente quindi se il pilota riesce a volare abbastanza a basso da mettere alberi palazzi o altri ostacoli come colline o montagne fra lui e missile o quello che sta guidando il missile non sarà più in guida e potrà semplicemente sparire dalla sua linea visiva questa è un'evasione altrettanto molto efficace quindi come avete avrete notato finora io non ho ancora parlato di contromisure e ho praticamente descritto il 90 per cento delle evasioni che si possono fare che sono quelle più sicure che non richiedono contromisure e funzionano sempre funzioneranno anche in futuro funzioneranno contro missili super tecnologici funzioneranno sempre perché sono si basano su semplici principi della fisica ora parliamo appunto delle cosiddette contromisure quando si parla di queste il senso comune crede che siano solo queste a fare l'evasione cioè basta premere un bottone per evadere i missili invece se mi avete seguito non è proprio così diciamo che le contromisure sono un di più alle circostanze che ho descritto sono qualcosa che aggiunge un disturbo alle evasioni energetiche cinetiche e di interruzione della loss in generale si dice che l'evasione dei missili è una combinazione delle tre che ho citato prima quindi energia manovre dinamiche e cinetiche interruzione della linea visiva ma queste poi in genere si associano anche il rilascio delle cosiddette contromisure ma in funzione sempre del missile del tipo di missile perché ogni contromisura può essere efficace solo contro un tipo particolare di missile o sistema radar elettrotottico e via discorrendo per contromisure in senso tradizionale se ne intendono di due tipi le cosiddette chaff che sono delle striscioline di metallo o materiali radar riflettenti che servono a generare dei una specie di eco nei sistemi radar e così confondere il radar di ricerca doppler aviotrasportati e dei missili stessi poi ci sono le flare che sono immaginiamole come una specie di bengala o delle fiammelle che in realtà possono essere sia calde che fredde e che hanno lo scopo di ingannare i sensori dei missili termici poi ci sono ovviamente altri tipi di contromisure elettroniche che servono a disturbare la guida dei missili di entrambi i tipi oppure delle vere e proprie esche che servono ad attirare i missili come dei veri e propri falsi versagli ma andiamo con ordine le chaff queste striscioline di metallo detta in modo semplice hanno una storia antica cioè già nella seconda guerra mondiale striscioline di alluminio venivano rilasciate dai grandi bombardieri alleati nei raid notturni sulla germania e servivano a ingannare i radar tedeschi facendogli credere che ci fossero molti altri aerei in volo in questo modo la caccia notturna veniva distratta e da un'altra parte si effettuava un raid l'impiego moderno delle chaff è diventato molto importante nella circostanza in cui i radar aviotrasportati hanno sviluppato le capacità doppler che ho citato prima cioè se ricordate cosa ho detto all'inizio del video parlando delle difficoltà di questi radar di vedere o riconoscere gli aerei che volano fiancheggiando l'azione cioè che ci mostrano il fianco bene questa è la chiave di lettura per capire il funzionamento dei chaff perché l'evasione di un missile radar o il cercare di eludere il radar dell'aereo che lo sta guidando come ho detto si basa sul cambiare la propria traiettoria e portarsi flanking cioè fiancheggiare a 90 gradi esattamente 90 gradi ve le mostro perché ho fatto degli esempi in telemetria e appunto si vede come a me per esempio nel primo esempio è bastato soltanto mettermi in flanking per sparire dal radar di ricerca dell'aereo che mi ha attirato il missile non ho attirato nessuna flare nel primo caso nel secondo caso lanciare i flare i chaff scusate sto facendo confusione lanciare i chaff nel momento in cui mi trovo a 90 gradi rispetto al radar che mi sta illuminando lanciare i chaff in quel momento quindi non prima non dopo in quel momento aiuta ulteriormente a confondere il radar di ricerca quindi se il radar di ricerca perde il tracking il lock su di me il missile semiattivo o il missile attivo che in quel momento è guidato perde semplicemente la guida quindi per ottenere questo risultato i piloti possono semplicemente virare a destra o sinistra o scendere in genere combinano comunque un'evasione energetica e ce ne è cinetica scendendo in picchiata e portandosi esattamente a 90 gradi rispetto alla fonte radar che può essere sia del missile o del radar di ricerca dell'aeroplano che lancia il missile è importante però capire quale delle due sia perché possono avere angoli molto diversi per una tecnica che in gergo viene definita notching ma a parte questo il pilota preso di mira ha il suo piccolo schermo per capire la provenienza della fonte quindi manovrando metterà l'emissione del missile o dell'aereo nel quadrante a ore 9 o a ore 3 per sapere appunto di avere a 90 gradi la minaccia e questo modo saprà di essere in flanking su di essa e potrà sfruttare le chaff in quel momento per generare ulteriore disturbo ed è proprio in quel momento che è importante rilasciare le chaff questi uscendo dalla coda dell'aeroplano si fermeranno in aria cioè non hanno motore subito si fermano in aria e generano ulteriore rumore sul radar di ricerca del missile con un poco di fortuna quel radarino e interpreterà una di quelle nuvolette di materiale radar riflettente come se fosse un bersaglio e cercherà di agganciarvi sì ma senza riuscirci fondamentalmente non può durare a lungo questo inganno perché chi progetta i missili non è stupido sono hanno dei sistemi per prevenire di essere ingannati dalle contromisure nel frattempo l'aereo che sta facendo l'evasione potrà continuare la sua manovra energetica o cinetica che sia e uscire così dal cono di scansione del missile o del radar di ricerca parliamoci chiaro le contromisure aiutano ma non sono la soluzione cioè chi progetta i radar e i missili sa benissimo come far riconoscere al missile le contromisure ed evitare di essere ingannato certo però in certe circostanze le contromisure come le chaff possono funzionare vi mostro l'esempio come ho detto nel primo esempio ho semplicemente virato a destra per mettermi il flanking ed è bastato questo per far perdere la guida al missile nel secondo caso ho lanciato le chaff esattamente nel momento in cui ero flanking e queste hanno aiutato a evadere il missile diversamente lanciare chaff a caso in altre traiettorie di volo normali non serve assolutamente a niente quindi c'è anche da dire che i moderni missili come per esempio il meteor line 120 c i pl 12 hanno comunque dei software con capacità predittiva che significa che anche nel momento in cui vengono ingannati dalle c e dalle chaff comunque continueranno a dirigersi verso la zona in cui era diretto il bersaglio quindi potranno riacquisirlo e non importa se sono state ingannate provvisoriamente potranno ritrovare il bersaglio e continuare il loro inseguimento quindi un pilota che conosce questi aspetti dei missili si preoccuperà di cambiare la propria traiettoria in modo che sia imprevedibile ok quindi passiamo alle flare per quanto riguarda queste sono le contromisure per i missili termici il discorso è molto diverso anche qui che costruisce i missili sa benissimo come tararli sull'emissione termica di un aereo cioè non è vero che il flare acceca il missile o si fa a passare per un aereo sarebbe troppo facile così no cioè con 20 euro di fiammelle e bengala puoi battere un missile da 400 mila dollari non penso proprio quindi cosa possiamo dire allora il discorso è complesso le cose che emettono calore su un aereo sono i motori almeno la fonte principale di calore viene proprio da lì poi vabbè nel volo supersonico a generare calore sono anche le superfici i bordi d'attacco delle ali il muso tutti i punti di maggiore attrito con l'aria ma in genere un sistema elettroottico a infrarosso che sia del missile o del sistema di guida di aggancio del missile vedono le parti più calde dell'aereo che sono appunto gli ugelli di scarico dei motori o le ventole frontali che si vedono attraverso le prese d'aria quindi a ricordi logica la prima evasione da fare contro questi missili è semplicemente di nascondersi cioè nascondere il proprio calore e come si fa considerando che il missile viene lanciato facendo una sorta di fotografia della nostra emissione di calore in quel momento la prima evasione termica e ridurre per esempio i giri motore cioè togliere manetta togliere l'acceleratore ridurre il post bruciatore che è la cosa che emette più calore in assoluto questo mette già in crisi il missile perché si basa sull'inseguimento a un'emissione di calore che avevamo prima che non c'è più adesso quindi a questo punto cosa bisogna fare bisogna cambiare traiettoria per evitare di mostrare al missile le parti calde quindi un angolo che impedisce al missile di vedere attraverso le prese d'aria la coda fare inoltre sì con questo che il missile non possa riagganciarci ripetendoci nelle nostre parti più calde cambiare traiettoria permette inoltre di togliersi dalla zona in cui la telecamera del missile guarda quindi questa è la parte più importante dell'evasione termica a questo si associano le cosiddette contromisure flare che hanno lo scopo di fare rumore ok di creare una sorta di disturbo il meccanismo dei flare in sostanza per usare un esempio molto calzante non è diverso dalla nuvola di inchiostro che la seppia o il polpo rilascia mentre scappa tutto qui genera un po di confusione mentre permette alla preda di scappare quindi se sono riuscito a spiegarmi bene se siete stati attenti esattamente come vale per le chaff le contromisure termiche flare non servono assolutamente a niente se non si riduce la propria emissione termica e non si cambia traiettoria quindi anche qui bisogna associare le traiettorie e la riduzione della propria emissione termica al rilascio delle flare altrimenti non servono a niente ve le mostro vi mostro degli esempi anche queste tac few come vedete il missile viene ingannato proprio da questa mia traiettoria gioco col fatto che mostro un angolo diverso in cui non si vedono più i miei motori rilascio le contromisure a con una rotazione di 360 gradi proprio per generare più quanto più rumore possibile è un sistema che può funzionare ma non è matematico che funzioni la cosa migliore da fare è non arrivare mai a quelle distanze così a corto raggio con l'avversario diciamo che tutti i missili radar a lungo raggio lavoro di squadra serve proprio per evitare di finire in una situazione del genere però chiaramente può capitare tutto può succedere può succedere anche di finire a colpi di cannone però è rarissimo vuol dire che si è sbagliato tutto prima una marea di cose sono andate storte oltre a questo tipo di contromisure tradizionali quindi chaff e flare esistono poi anche altre più sofisticate oggi che rientrano nella categoria di disturbatori elettronici o da guerra elettronica uno dei primi a utilizzare questo tipo di sistemi fu il su 25 russo questo aereo d'attacco al suolo degli anni 70 che fra l'altro viene utilizzato ancora oggi sia dagli ucraini che dai russi questo aereo nella coda ha un dispositivo che emette degli impulsi elettromagnetici e che servono a disorientare i missili termici che gli vengono lanciati a ore 6 solamente ha una sua utilità ma non è infallibile specialmente contro missili più moderni anche spalleggiabili altri sistemi più moderni di contromisura si basano su impulsi selettivi nella direzione del missile per esempio la bae system inglese ha equipaggiato le f 35 con questa arma perché di fatto si parla di un'arma antimissile esistono poi altri casi come quelli che montano l'f18 super hornet lo stesso rafal l'euro fighter o il griffen europeo sono dei sistemi chiamati in po da ultima spiaggia nel senso che se tutte le evasioni precedenti energetiche cinetiche loss contromisure non hanno funzionato allora si può tentare l'ultima carta l'ultima risorsa questo sistema è una specie di esca che attaccato sotto le ali e viene scollegato e ci si porta dietro collegato ad un cavo questo dispositivo emette degli impulsi elettromagnetici fa rumore insomma viene a usarsi un po come come devo dire come esca letteralmente come la lucertola che si separa dalla coda per fare in modo che il portatore vada sulla coda più o meno questo il principio quindi questo oggetto viene sacrificato per attirare il missile che poi va a esplodere su di que su di esso ed è chiaramente un po l'ultima spiaggia quindi questo è per oggi abbiamo finito chiaramente la guerra moderna è molto più complessa di così da come ho semplificato in questo video non si tratta mai di lanciare missili e di aerei che fanno uno contro uno no questi sono solo degli esempi che ci hanno aiutato a capire spero che abbiano aiutato a capire il funzionamento delle evasioni ovviamente poi discorso è molto più complesso di così i radar oggi non hanno questi grandi limiti sugli oggetti flanking come per esempio negli anni 90 hanno raggiunto una definizione molto maggiore riescono a operare in multifrequenza molto più facilmente quindi è difficile oggi stabilire se le chaff e portarsi in flanking funzioni realmente almeno rispetto agli anni 90 quindi poi ovviamente le tecnologie missilistiche sono andati avanti sono stati aggiornati software e anche poi è cambiata anche la tecnologia dei aeroplani con questi aerei sempre più piccoli e agili che sfruttano appunto i concetti energetici soprattutto perché come ho detto le evasioni energetiche saranno sempre di riferimento funzioneranno sempre anche in futuro e niente spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima